Tu Sansegna! C***o! Eccoci, siamo in live, adesso... Siamo live! Siamo vivi! Alzare la coppa! Manca alzare la coppa! C'ho paura, Leo. Leo, ti chiedo un pronostico. Eh, lo sai. Uno, due. Un marcatore. E io la voce a D. Marcatore, suso, uno a uno ai regolamentari, uno a uno ai supplementari, rimane uguali e perdiamo i rigori. Eccola. Eccola. I de lo fro. No, 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 no. Eccola. Va bene, l'ultima volta che lo canterò sto coro. Hashtag per Pogba. Bene. Oh, è arrivato, mamma mia. E' discusa. Non c'era, scusa, verità. Allora, pronostico, uno a due lui. Uno a uno rigorio te. Anch'io. Guarda. E' troppo di gioco. Ma Ivan Rakitic. Sguan, cosa stai facendo? Olè! Ma cosa stai facendo? Sveglia! Si deve svegliare! Se doveva essere una serata tranquilla, Leonardo ha già urlato più dell'andrata. Faccio! Viva! Si comincia! Olè! Primo di rapporto a Juve. E vai. A posto. Ma che ha fatto? Juve è pericolosa. Ma si sa. All'andrata, paradossalmente, il portiere a Bessaro non aveva parato nulla. Madonna di Dio. Bono! Dal Marocco. Con furore. Con fulgone. Parlo! 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 Giallo! Ho testa di chi! Parlo, ma fanno girato a Istanbul, voi? Perché non devi parlare delle altre squadre? Vedi che ti purga il karma? Niente. Questo parla del Milan. Mamma mia! Che fila si? Eh, però Ficker si fa. Si è ribotta. Oddio! Eccola! Non fassi! Non fassi! Non fassi! Non fassi! Non fassi! Non fassi! Ma che cazzo! Dai! Ma aspetto! Dai, ma come la vuoi, Fide controlla la scala. Passa la Ken, non so. Pure passala Ken. Eh, quello che manda in culo, sì. Avevamo fatto sei passaggi di fila. Giallo perde palla e lo stretto ancora a ricompattarsi dietro a Cugnaco. Oh, le tiri della domenica! Eccolo! Eh, ho capito, si apro, si ammazzano. Beh. Oh! Paolo! 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 Sì, vabbè, guarda che sta scoppio ritardato. Sì, dai. Oh, le! Alla, che partita! Una zera, Fiorentina! Vai, barone! Ma, ma, cara, non me la fuma! Gip, perché prima o poi una l'ha zettito. Questo è il fallo! Questo non è giallo, eh! Chiede il cambio! E questo si è fatto male, e l'avversario non ha preso neanche giallo! Ciao, Goodell, vai! Siete voi come ti vedo bene in finale? Con i buzzi della Roma! Pareles, via! Che non me la vedo! L'Ogatelli non segna da due anni! Sì! 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 Pareles, sti peco, siete argentini, vi volete bene! Ma che... No! Che gli ho testato, breh! Troppa... Troppa, bravo, che cazzo... Dai, ma, pacca, 40 secondi! Ma sei proprio un coglione! Vai, sì! Noi! Vabbè, fuori aria, vicino! Perché non mi... Rischio enorme, scivolata dentro l'area... No! Te devi andare dal cazzo, vecchio di me! Vero un goccio, prima che muoia assiderato! Danilo! Oh, dè! Non ci credo, un ripallo da noi! Sì, ma però, ragazzi, ma noi siamo veramente una roba allucinante, eh, in Europa! Altro che un giraffo a voi! Probabilmente poteva essere almeno un 1-1! Vallo! Dai, ragazzi! Dai! Vai da solo! Tiridola! Dai! No, no! Acugno ha morito! Bremer! Non ci credo! E ora, entra Suso, e pensami! Ciao, facciociamano! No! No! Perderemo per questo! Vabbè, lo so, eh! Eccolo, vai! Il primo! È già partito forte! Quando Suso stava al Milan, la Juve era una squadra che vedevi vincevi gli scudetti a marzo. Non lo potevo temere! Cioè, che brutti cambi, mi verrebbe da dire! Va, guardate! Kick-O! Staccali il muso, Federico! Staccali il muso! Ehi, vabbè, ha tirato un pugno, mamma che ne frega un c***o! Oh, non sono mai contenti! Ma Cristo, ma dai, ma riconosci che non hai ciolato bene! Sei nervoso con te stesso! TUSAN! SEGNA! COO! 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 E QUELLO ESPULSO! E QUELLO ESPULSO! SBAGLIA! Mamma mia, dal cielo l'hanno chiamata! Ha sbagliato Badè, che non ci doveva essere, ma questo non è giulta ragazzi, l'ultima semifinale, l'ultimo che si ultò così, era Morata, contro Real, che disse, è stressato! C'è una cosa da fare quando attacca a Susu, una cosa da fare è coprire il sinistro, Catelli campione d'Europa, non lo sa! Vediamo se Kostic riesce ad essere il 10% di quello che era il girone d'andata in campionato, perché sai, era un buon giocatore Kostic! No, Shesdy, com'è uscito! No, gol! No, 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 però ragazzi, si può difendere così, si può. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Basta! Manco Buffon! Manco Buffon! No, ragazzi, dai, povero Shesdy! Andiamo a scena via così, vediamo di che è morto e abbiamo morito, rigori, supplementari, che? Ah, mendiglio, barbio santo, in miniera! In miniera era questo! Allena, alzitiglia! Acqua! Vai, comincia! No, domani sarà tosse! Ma è frizzante! Ma beccate frizzance, cazzo! Peredutti! Peredutti! Ma mi dobbiamo morire di sete, ragazzi! Peredutti! Averso! E' la viola che fa' altro! Bella la giancia! Si gira a chiesa! Sinistro con! Trauvi c'è al limite, la palla su sinistro! Trauvi! Ah! E' sul gol subito! Bella! Di Danilo! Splendido! L'anticipo di Danilo che si presenta sulla 3 quarti! chiesa! no, polco chiudi, polco, è normale, è normale, la mela, l'ho detto a mano, l'ho detto ora, su, uso la mela, c'è ancora 24 minuti, davvero, costi, ci si sa ne vedo cosa stia facendo, io, non so, non so, non so, non c'è più tempo per quanto riguarda questo primo tempo supplementare, a Suso la mela, tranquillo, manzaco, e ho, all'è, triplete, Suso, Milan, la mela, Roma, Papu, Atalanta, vai, appunto, ora il quiz è, segna prima la Fiorentina, o il Siviglia no ragazzi ma che vi dico no no ma chi è Dusan no ma che che chiesa è dovuto uscire 83 minuti ragazzi salta la Roma ragazzi a me a questo punto mi rompe anche il Milone anche il cazzo e il tempo ma mi devi dire che stai giocato mi sono andato il cazzo è una cosa problematica già con Miletti ragazzi mi sento poco male per te lo so no ma che posso farlo Kustic alza la palla Goodell riesce a liberare Paredes può calciare Paredes non riesce a tenere la pasta ancora due minuti basta c'è non ce lo mettiamo perché che dica di me la Juventus non riesce a raggiungere il finale proprio su plan decisivo assiato qualcuno Fiorentina gol al 122 un'altra notte che se ne va un'altra notte che se ne va post partita hashtag Predict hashtag Predict tutto predizzato però avevamo detto i rigori dici sarebbe stato peggio perde i rigori a 126 ma deve andare ancora peggio in quel modo quindi